Salve a tutti, siamo ad un'altra puntata di Tax Planning Internazionale, io sono Valerio Quatrano da Tbilisi e sono con Luca Tagliatela, ciao Luca! Ciao Valerio! Da dove sei in questo momento? Valerio sono ancora a Malta per la verità, mi trovo in questo momento nel mio studio di Valletta, ma tu come ci sei finito a Tbilisi piuttosto? Lo sai benissimo, sono venuto a Tbilisi perché la nuova, diciamo, la Georgia è stata considerata il paese più riformatore dalla banca mondiale, per cui ho deciso di venire qui a vedere se ci sono opportunità di business e effettivamente abbiamo trovato già delle buone condizioni proprio per l'argomento di questo podcast, cioè proprio riguardo i conti correnti. Assolutamente! La Georgia è un'ottima postazione. Dunque, di cosa parleremo in questo podcast? In questo podcast parleremo di conti correnti offshore, quindi tutta la questione relativa a come, perché e quanto è complicato aprire un conto corrente offshore, sia personale che per la propria azienda. Cominciamo col dire che le cose sono diventate complicatissime da qualche anno a questa parte, per colpa di una serie di furbetti che obiettivamente avrebbero attività elusive, oppure di riciclaggio vero e proprio, e allora per colpa di questi quattro caproni, diciamo, l'intero sistema bancario internazionale è saltato completamente. Allora, sì, perdonami. E Luca ci darà un panorama. Ti fermo prima che cominciamo a fare nomi e cognomi di russi e armeni. No, partiamo dall'inizio, partiamo da due principi fondamentali che sono alla base di questo ragionamento e poi arriviamo a descrivere, a raccontare perché è diventato così difficile oggi aprire un conto corrente all'estero. Quindi due cose su tutti. La prima è che aprire un conto corrente offshore, quindi banalmente per un residente italiano, aprire un conto corrente all'estero, questo vuol dire aprire un conto corrente offshore, è un'attività assolutamente, completamente, integralmente lecita. L'importante è che questa apertura di conto corrente vada segnalata. Quindi nell'ottica di una trasparenza completa, aprire un conto corrente all'estero è un'operazione completamente legale. Quindi molte persone, come sai, tu lo sai bene Valerio, perché poi parli con tanti imprenditori, ma anche con tanti clienti. Quando si nomina la parolina offshore, la gente va nel panico, quindi soprattutto grazie ai giornalisti di sinistra. Ma anche i bancari vanno nel panico? Chiunque va nel panico, chiunque non ha una minima nozione, un minimo know-how, ma neanche di finanza. Qui parliamo proprio dell'ABC, del vivere comune, quindi insomma non sono nozioni trascendentali. Basterebbe fondamentalmente utilizzare un vocabolario d'inglese e vedere come si traduce offshore, per capire che non stai commettendo nessun omicidio. Quindi questa è la prima regoletta, ok? Quindi aprire un conto offshore è legale, basta che lo dichiaro. Di solito lo mettiamo nella dichiarazione, lo indichiamo in dichiarazione dei redditi se abbiamo dei conti correnti esteri. Questo vale per gli italiani. Mentre il secondo principio, ancora più importante di quello che ho detto in questo momento, è che in Europa esistono quattro libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Una di queste libertà fondamentali è la cosiddetta libera circolazione dei capitali. L'articolo 63, per chi fosse interessato se lo va a vedere, del TFEU, Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, sancisce questa circolazione, la libera circolazione dei capitali. Che cosa ha introdotto questa libertà in questo articolo? L'articolo 63 ha vietato tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti, sia all'interno della Comunità Europea, quindi tra gli Stati membri, tra Stato membro e Stato membro, sia tra gli Stati membri e i Paesi terzi. Quindi è una libertà che ha un'ampia capacità di applicazione e che dovrebbe sancire appunto la possibilità di muovere questi capitali senza restrizioni. È un punto fondamentale, sto stressando su questo punto perché? Perché non si sposa evidentemente nell'apparato burocratico di oggi con la difficoltà invece poi di andare ad aprire materialmente un conto corrente. Ok, scusa, ti blocco un attimo. Quindi, riepilogando, aprire i conti correnti è perfettamente legale. Esatto. Apri il conto corrente all'estero, tu sei residente in Italia o a Malta o in Francia o dovunque tu sia, puoi aprirlo in un altro paese legalmente e lo dichiari, ok? Tutto alla luce del sole. Perfetto. Questo secondo le normative dell'Unione Europea e secondo i trattati internazionali attualmente vigenti. Però, nel concreto, è quello che abbiamo visto fino ad ora, in questi ultimi anni, addirittura mesi, le cose si stanno facendo veramente complicate. Perché, secondo te? La situazione si è inaspita. Facciamo prima qualche esempio concreto. Ci sono persone che in questo momento, proprio letteralmente, hanno difficoltà ad aprire i conti correnti all'estero. Allora, io ho... Cioè, non glieli aprono. No. Che cosa succede quando vai da una banca? Non glieli aprono. Allora, facciamo una distinzione. Partiamo dall'apertura dei conti correnti personali. Dopo parleremo anche dell'apertura dei conti correnti di società. Quindi, di persone fisiche. Tu, Valerio, come persona fisica vuoi aprirti un conto corrente in qualsiasi altro paese. Cominciamo dall'Unione Europea, insomma, ma non cambia tanto. Che cosa succede? Dobbiamo capire... La prima distinzione è questa. Che esistono banche, o esistevano banche, che ti concedevano la possibilità di aprirlo in remoto. Quindi, tu, Valerio, da Tbilisi, chiami una banca a Londra. La banca ti apre il conto corrente senza bisogno che tu fisicamente ti rechi a Londra. E poi ci sono banche che, invece, richiedono di presentarti in loco. Quindi, perlomeno, chiaramente, con il passaporto, insomma, i documenti di identità e firmare materialmente i loro form, i loro format. Quindi, di solito, chi concede l'apertura in remoto applica una due diligence, quindi un'attività di... come dire, vanno a scavare nella bontà di te come... sotto il profilo finanziario, quindi... per capire se avevi problemi, se hai mai avuto problemi, se eri un cattivo pagatore, insomma... L'attività di due diligence di ricerca su... il tuo profilo è sicuramente più approfondita e più complessa che non di chi ti apre il conto corrente dal vivo, no? Di chi ti richiede che vai lì sul posto. Perché, chiaramente, in remoto sono maggiori le precauzioni che devono essere prese. Dall'altro lato, esistono, invece, dei paesi nei quali devi per forza andare, uno su tutti, per esempio, Hong Kong. Non esiste la possibilità, ad oggi, di aprire in remoto, quindi magari dall'Italia, un conto corrente a Hong Kong, ok? Quindi questa è la prima distinzione. Remoto, quindi online contro offline. Remoto come contro presentarti sul posto. Ultimamente stiamo verificando una serie di problematiche, una serie di ostilità da parti delle banche. Io mi sono fatto questa idea. Questo, chiaramente, a prescindere dal patrimonio dell'imprenditore, ok? Quindi parliamo di persone fisiche che vantano milioni contro persone fisiche che magari, invece, hanno aziendine che fatturano 100-200 mila euro e quindi non distribuiscono dividendi per più di 70-80 mila euro l'anno, ok? Io, personalmente, sto riscontrando difficoltà sia per i grandi che per i piccoli in questo momento. Nel panorama generale, che cosa volevo dire? Qual è la mia analisi? Perché sta succedendo questo? Beh, sicuramente, come tu dicevi, ad apertura di podcast si parte dai furbetti, no? Per anni si è fatto un po' quello che si voleva fare, questo anche dal punto di vista fiscale. Da un punto di vista finanziario sono stati aperti i conti correnti un po' ovunque e sono stati utilizzati per il riciclaggio, sono stati utilizzati per finanziare il terrorismo. Chiaramente, nel corso del tempo, le norme anti-riciclaggio, anti-money laundering, le norme anti-terrorismo sono intervenute giustamente per andare a intercettare tutti questi furbetti di cui parlavamo all'inizio. Questo ha questi due fenomeni, quindi anti-riciclaggio e anti-terrorismo, se ne è aggiunto un terzo, che è quello di cui tutti sicuramente avete sentito parlare, soprattutto se ci seguite su Tax Planning Internazionale, è il problema dello scambio di informazioni finanziarie automatiche. Lo scambio di informazioni finanziarie automatiche, che è una novità relativamente, nel senso in Europa esiste già da anni una direttiva in questo senso, ha come scopo quello di incrociare praticamente i flussi finanziari di ciascun contribuente ovunque esso li abbia, ovunque esso abbia interessi. questi conti correnti devono fondamentalmente essere intrecciati tra di loro e ciascun Stato deve sapere chi ha cosa dove. Quindi parliamo di tre normative particolarmente pesanti, nel senso che gravano sull'apparato amministrativo delle banche. Cioè è necessario preparare e specializzare, formare del personale, implementare dei software e dei regolamenti interni e anche dei format appositi, che chiaramente vanno a ingolfare l'apparato amministrativo di ciascuna banca. Quindi il risultato di aver obberato le banche di queste nuove regolamentazioni qual è? È che oggi i funzionari, chi banalmente sta dietro lo sportello e dovrebbe aprirti un conto corrente, da un lato è talmente incasinato di moduli da farti riempire che non sa più neanche lui dove mettere le mani. Dall'altra parte sa benissimo che se per caso gli sfugge qualche documento non si accorge che la persona che sta per aprire il conto corrente non è una persona pulita al 100%, chiaramente se ne assume la responsabilità. Tutto questo ha portato alla complicazione nella quale ci muoviamo oggi, sia in Europa che nel resto del mondo. Per cui il risultato è che fondamentalmente nel dubbio preferiscono non aprire un cazzo. Allora questa è sinceramente sì, è quello che mi sento di dire oggi. Nel dubbio piuttosto che prendersi il rischio e poi però scoprire che qualcosa non è come avevano compreso loro rispetto ad una singola posizione si rifiutano, prendono tempo, quindi magari prendono tempo e lo fanno perdere a te e la situazione è piuttosto imbarazzante. Poi chiaramente avendo noi consolidato negli anni dei contatti, network importante e soprattutto come dire, avendo una credibilità piuttosto congura, piuttosto spessa all'interno di questo network, alla fine la spanghiamo sempre. Però posso immaginare a chi, singolo cittadino, si sposta per motivi personali o comunque si trova a dover aprire per mille motivi un conto corrente all'estero, si reca in banca e farebbe prima sbattere la testa contro un muro. No, no, ma infatti questa cosa qua blocca proprio il commercio internazionale perché l'altra volta stavo a Tbilisi, stavo parlando con il mio consulente qui nelle banche di Tbilisi che poi parleremo di questa cosa, e parlavamo proprio di questa cosa qua, per esempio se un italiano, quindi un residente in Italia vuole aprire un conto corrente, che so, in Georgia, dove mi trovo in questo momento, la Georgia è un caso particolare, però mettiamo a caso che la Georgia non apre i conti correnti così come fanno gli altri, lui per esempio questo residente italiano ha dei clienti in Georgia, quindi vuole farsi pagare nella banca locale, perché così evita i trasferimenti, i bonifici internazionali che sono naturalmente molto costosi. E anche il rischio di cambio, perché nella misura in cui volessere investire in Georgia… Assolutamente, assolutamente il rischio di cambio per esempio, non può farlo perché moltissime banche all'estero non ti aprono il conto corrente se non sei residente nel paese, per cui proprio blocca anche il commercio internazionale più basico, cioè una persona che ha clienti all'estero. È corretto. Poi invece, per fortuna poi, no perché infatti poi la questione qual è, che fondamentalmente alla fine chi è che può aprire questi conti correnti? Chi ha rapporti? Cioè per fortuna tu hai costruito negli anni rapporti con consulenti in parecchi paesi del mondo, con parecchi bancari eccetera. Però appunto uno che non ha questi rapporti è completamente fuori, completamente bloccato. È completamente bloccato, sì, perché diciamo che noi siamo in grado di passare da un paese all'altro, quindi abbiamo contatti che in caso di difficoltà, perché potrebbe andare male anche a noi in qualche circostanza, non è che siamo i padri eterni. Però, ecco, se dovessi andarci male in qualche nazione non abbiamo difficoltà a, come dire, in altre, insomma, mentre chi chiaramente non ha nessun tipo di contatti, nel momento in cui ti presenti in Germania, allo sportello, o comunque prendi contatti in Germania, allo sportello, in Germania per fare un esempio, e non ti aprono il conto corrente, lì tu devi ripartire la tua ricerca da capo, capire quale altro paese ti offre quali condizioni, ricarti materialmente in quel paese, se non è prevista l'apertura di un conto corrente online, rischiando di farti un altro viaggio a vuoto. Questa è la situazione, ed è diventata fondamentalmente folle. Assolutamente. Eppure ci sono, la cosa più importante è che la cosa è variata notevolmente rispetto a prima, perché fino a due anni fa magari andavi a Hong Kong, anzi proprio tuo fratello l'ha fatto, andò a Hong Kong, apri un conto corrente a Hong Kong, due anni dopo la cosa è diventata impossibile. Sì, la due diligence oggi per aprire un conto corrente a Hong Kong è diventata molto più stringente rispetto al passato. Allora, in questo caso, per esempio, Hong Kong, se parliamo di grossi gruppi, ma quindi con investimenti che superano anche i 20-30 milioni di euro, allora qualche agevolazione la trovi, voglio dire, sarebbe anche, capiamo tutti quanti perché, però sotto queste cifre, quindi anche per società che abbiano fatturato poi di 10-20 milioni che non sono bassi, invece si possono incontrare le stesse difficoltà. Addirittura io ho dei clienti a Malta che hanno avuto difficoltà ad aprire il conto corrente a Malta stesso, nonostante abbiano logistica, magazzino, dipendenti, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, questa è la realtà, no? Cioè, da un lato abbiamo sulla carta la libertà e la possibilità legale di aprire i conti correnti e di commerciali in tutto il mondo. Dall'altro lato, poi, in realtà, ci scontriamo con una situazione pratica che è diametralmente opposta per tutta la serie di motivi che abbiamo detto. Sì. E anche perché… Sì, scusa, mi finisci. No, io penso sia una questione di panico generale, attuale, perché non credo che possa durare a lungo, perché è veramente insostenibile questa situazione. Quindi penso che sia più una cosa che c'è una specie di panico attuale, una specie di terrorismo che fa l'Ocse, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. Io così la leggo, penso sia al momento una cosa temporanea, voglio sperare. Allora, sì, per esempio la Svizzera è terrorizzata. Diciamo che il problema parte dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti, perché chiaramente sono loro aver subito il più eclatante atto di terrorismo dell'11 settembre, da lì è cominciata la spirale, diciamo, del terrore e sono riusciti tramite i cosiddetti FATCA ad imporre fondamentalmente uno scambio di informazioni sui conti correnti a tutti quanti gli altri paesi del mondo. Adesso non proprio tutti, però insomma una percentuale impressionante. Ed è anche il motivo, cioè gli Stati Uniti sono il motivo per cui è caduto il segreto bancario in Svizzera, giusto per farvi rendere conto di quali potenze, di quali poteri sono stati mossi. E da dove poi parte questa paura a livello internazionale, questa dirresponsabilizzazione a livello internazionale, perché da un lato c'è stato un sovraccarico di regolamentazioni. Dall'altro chiaramente c'è stato un fuggifuggi generale dei funzionari da prendersi dei carichi di responsabilità, ovviamente di cui probabilmente insomma anche noi avremmo paura, non so, non so veramente, sono abbastanza come te sconvolto, no? Nel senso è una situazione sicuramente di passaggio che è destinata a finire, noi ci auguriamo che finisca il prima possibile. Assolutamente. Questo poi ne è proprio discusso a Malta in pare 4 giorni fa il meeting che hai fatto. Abbiamo parlato anche di questo problema, proprio perché anche a Malta sta diventando piuttosto complicato aprire dei conti correnti, soprattutto quelli personali, piuttosto che quelli per chi ha una società, però come dicevo anche chi ha una società ha avuto dei problemi ad aprire dei conti correnti e quindi chiaramente abbiamo parlato anche con i rappresentanti della banca di Valletta per cercare di capire quali fossero le ragioni e quale fosse la tendenza, quindi che cosa succederà nei nuovi anni. Diciamo che si è verificato, come ti dicevo, una specie di collo di bottiglia, no? Quindi troppe cose tutto insieme non ci stanno più dietro, perché chiaramente tu, come ti dicevo, devi in ogni caso formare del personale e soprattutto devi crescere, perché devi assumere del nuovo personale se ci sono delle mansioni che prima non erano previste. Parli delle banche, parli delle banche. Sì, in questo momento parlo delle banche, quindi proprio le banche da un punto di vista amministrativo sono sovraccariche. Sì, per cui aprono i conti correnti solamente ai clienti grossi, cioè veramente grossi, perché ne vale la pena? Quelli già un po' più piccoli preferiscono non rischiare. In realtà è una contraddizione, perché il cliente più piccolo, meno probabilmente è un trafficante di cocaina, più probabilmente sia quello grosso il trafficante di cocaina. La differenza è che chiaramente mentre il piccolo non ha niente da investire, quindi magari vuole soltanto essere aperto il conto corrente, su un'apertura di un conto corrente una banca non ha guadagni, mentre il grande che ha decapitato la destina. Sì, 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 assolutamente, però questa cosa qua poi genera una situazione opposta poi al senso della regolamentazione, cioè non li fanno aprire ai piccoli e li fanno aprire ai grandi. Quando sono i grandi sono più a rischio terrorismo o a rischio di stupefacenti, eccetera. Esatto, esatto. Da un lato c'è un sovraccarico, dall'altro c'è una dirresponsabilizzazione. La situazione è piuttosto complicata. Ti ripeto, noi abbiamo risolto grazie al network, altrimenti anche noi ci saremmo trovati in questa difficoltà. Infatti chiunque voglia trasferirsi, noi ci occupiamo come tutti quelli che ci seguono sanno, i trasferimenti di residenza fiscali e di pianificazione fiscale. Chiunque si affidi a un consulente che però non è inserito in un network tale per cui non ha contatti con le banche, ma magari conosce anche qualche altro commercialista da qualche parte, per carità, ma non ha nessun contatto con le banche e rischia di pagare una consulenza teorica, perché poi all'atto pratico ti trasferisci o pianifichi, però poi non puoi aprire un altro conto corrente e ti rimani bloccato. Esatto, esatto. Io direi che proprio questa è una chiave di lettura cruciale. Non basta conoscere la normativa, perché la normativa può conoscerla chiunque. In questa situazione, in questo settore, devi non solo conoscere la normativa in maniera precisa, ma devi anche poi conoscere e puoi avere rapporti con gli operatori nel mondo finanziario, nel mondo bancario, con altri fiscalisti nei diversi paesi, perché questa qua è proprio una questione di fiducia, di network, di relazione. Il motivo per cui non ti aprono i conti correnti, perché non ti conoscono materialmente. Il motivo per cui io sono in Georgia è che voglio, insieme a Luca, stiamo costruendo una rete anche più lontana dal centro, dal nucleo dell'Europa, verso questi paesi più marginali, che hanno anche più libertà di movimento, perché sono meno controllati. Però devi andarci, perché non è che fai la chiamatina alla banca e dici voglio aprire il conto corrente, ti abbassano subito, ti abbassano subito e ti aprono in faccia. Magari una volta era più facile aprirgli il remoto, oggi ci stanno riducendo parecchie capacità, parecchia possibilità di manovra. Oggi devi andare sul posto, perché vogliono guardarti, vogliono parlare con te, cioè è come se stessimo tornando ai tempi degli anni 60, che devi conoscere il bancario come nel paesino, eccetera. Così sta diventando in questo momento. È complicato. Per cui la chiave è la relazione, per cui devi andare da un consulente che ha le relazioni, non uno che conosce il codice civile o il codice di trattato internazionale. Servono a poco, attualmente serve a poco conoscere i trattati. Il passaggio dalla teoria alla pratica è sempre un rischio. Conoscere la teoria non basta, perché rischi fondamentalmente, poi ha consulenza anche pagata di dover fermare le carte, di dover fermare la macchina, perché poi in realtà non puoi dare eseguito ai tuoi commerci. Quindi è molto importante, partiamo dal piccolo caso, facciamo esempio un trasferimento di residenza fiscale di una persona fisica, un italiano che se ne va in Slovenia. Quindi quell'italiano che chiude il conto corrente in Italia perché il consulente ha letto l'articolo 2 del testo unico, ha letto una circolare dell'agenzia dell'entrata di 50 anni fa e ti dice no, devi chiudere tutto. Perché che cosa ti dice il consulente? È sempre la stessa stronzata. No, devi chiudere tutto, no, sei attento, devi chiudere tutto, 183 giorni, eccetera, eccetera. Allora tu chiudi tutto, ti chiudi il conto corrente, prendi e te ne vai e te ne vieni a Malta. Dai, preferisco Malta come esempio più calzante. Arrivi a Malta e te ne vai in banca e dici io sono un italiano, sono venuto qui a Malta a vivere, magari ti hanno assunto, magari lavori in proprio, magari lavori in un ristorante, qualsiasi cosa, vai in banca ad aprirti il conto corrente. La prima cosa che ti chiedono, così lo sapete anche voi, è o una referenza bancaria o la prova che tu hai già un conto corrente in un altro paese, in questo caso facilmente dal paese dal quale vieni, cioè dall'Italia. Quindi che succede? Tu hai chiuso il tuo conto corrente perché il tuo consulente nel frattempo ti ha detto per carità di chiudere tutto, arrivi lì e qui, in questo caso dove mi trovo io in questo momento e il conto corrente non te lo avrono, perché non hai la possibilità di fare a quel punto neanche più un estratto conto. Esatto. Quindi faccio molta attenzione a questo che diceva Valerio, una cosa è la teoria, una cosa è la pratica, una cosa ancora poi è il network e quindi le conoscenze all'interno della struttura bancaria, non soltanto la conoscenza di altri professionisti, di altri fiscalisti come me all'interno di altri paesi, ma proprio tutta la rete deve essere estesa. Assolutamente, sì perché la teoria la fa facile, se uno si attiene alla teoria, la teoria la fa veramente facile, libertà dei movimenti, puoi aprire il conto corrente dove vuoi, però poi nella realtà non è niente così. Il consulente che si improvvisa, consulente, si legge l'articolo 2 e ti dice le regole dell'articolo 2 del testo unico, poi si legge l'articolo 63 sulla circolazione dei capitali, gli dice va bene, non c'è problema, glielo faranno fare, ma in realtà non ha la benché minima esperienza e non sa che il mondo reale va al di là della legge e del pezzo di carta, perché questa è la situazione reale. Dopodiché premono chiaramente tutti gli aspetti congiunturali che ci siamo detti, quindi crisi economica, terrorismo, scambio di informazione automatico, la pochezza anche se vogliamo di certi funzionari bancari, perché stanno lì a prendersi lo stipendio. Certo, assolutamente, che non conoscono la normativa. Sì, sì, infatti, anzi, 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 direi che proprio uno dei problemi principali non è tanto l'Ocse, quanto i bancari che non conoscono la normativa, sentono la parola offshore, vedono che non sei residente e per loro diventi automaticamente radioattivo. Eh, sì, questo è un grosso problema, quando non hai, soprattutto le prime volte, comunque quando non hai il contatto, quindi appunto, come dicevi tu, quando non ti conoscono e tu provateci, cioè, non raccontiamo la verità, quindi provate voi stesso ad andare in una banca tedesca, piuttosto che una banca slovacca, piuttosto che una banca slovena, piuttosto che in Inghilterra e dire che avete una società offshore che su questo conto corretto volesse ricevere i vostri dividendi da una società che si trova, ma neanche in un paradiso fiscale, guarda, in Austria, cioè tu italiano vai a Londra e dici che è una società in Austria e ti serve per raggiungere, per distribuire i dividendi di questa società. Fatemi sapere che succede. Quello A non capisce un emerito cazzo, B va nel panico, C mi dice no, mi dispiace, non si può fare. A me è capitato addirittura che in Germania mi dicessero un po' di tempo fa, no, noi non apriamo conti correnti ai residenti fiscali a Malta, cioè sulla base di cosa, sempre, qui ritorniamo, no, Unione Europea, Libra Circolazione dei Capitali, però loro no, aprivano soltanto i conti correnti ai tedeschi. Esattamente. Quando poi chiaramente a telefono mi avevano detto tutto il contrario, eccetera, eccetera, quindi è questo il mondo nel quale ci muoviamo, tanta paura, tanta disinformazione, tante teste di cazzo. E in questo contesto poi ci sono anche alcune banche che se ne approfittano, perché per esempio questo è proprio il caso di alcune banche in Estonia, approfittano del fatto che è diventato così complicato aprire soprattutto in remoto e quindi ti fanno aprire in remoto ma ti applicano delle commissioni incredibili, incredibilmente alte, proprio perché il mercato si è praticamente istinto, quindi sono diventati dei monopolisti praticamente. diciamo che ci sono ancora dei paesi, in realtà ci sono paesi che lo fanno, banche che lo fanno, però sono sempre più dei paesi marginali e comunque non è mai la garanzia perché comunque le cose si evolvono rapidamente, se fino a ieri in Inghilterra te lo facevano, oggi non te lo fanno più. devi starci dietro, per esempio in Inghilterra ci sono banche come la Barclays che te lo operano anche in remoto il conto corrente, però chiaramente dopo apposita due diligence e dopo un deposito minimo di perlomeno 25.000 sterline, altrimenti chiaramente ci sono dei discrimen evidentemente, non tutti vanno bene per tutti, quindi ogni cliente deve sapere che per ogni cliente va fatto un check up perché a seconda delle disponibilità finanziarie, a seconda del tipo di attività, a seconda del tipo di passato, di trascorso anche finanziario, allora si suggeriscono determinati paesi piuttosto che determinati tipologie di conto corrente. Certo, non stiamo dicendo che è impossibile, in realtà se tu vuoi aprire un conto corrente adesso lo fai, ci riesci, però significa che devi stare là, devi stare dietro alla banca, alle due diligence, al funzionario che non capisce, cioè significa dedicare due o tre mesi dietro al… Tanto tempo, chiaramente le relazioni si costruiscono nel tempo, quindi a meno di essere un grosso investitore, certe volte neanche bassa e potresti avere delle difficoltà in mani. Quindi il consiglio è, considerata la difficoltà, prevenire, quindi premonirsi, capire, anche prima di un trasferimento, prima di una pianificazione, quali sono i paesi interessati e muoversi con circospezione, con intelligenza. Anche laddove il consulente vi ha detto che non ci sono problemi, andate comunque a indagare, andate comunque a verificare per i vostri fatti, per i vostri da soli, se quello che vi hanno detto è vero oppure no, perché altrimenti rischiate di buttare i vostri soldi. Sì, poi il vostro tempo, che è anche più preciso. Assolutamente. Quindi è questo uno dei motivi per cui poi alla fine Valerio è sguinzagliato fondamentalmente in tutti i paesi del mondo che ancora non sono conosciutissimi o utilizzatissimi, anche per consolidare una rete di relazioni che si cresce nel tempo e portiamo avanti da anni. Certo, comunque i paesi dell'est Europa, anzi ormai io sto proprio in Georgia, quindi stiamo parlando quasi di paesi asiatici, hanno molta più capacità di manovra, perché non sono sotto i riflettori, infatti qui le cose sono molto più facili. Esatto, parliamo chiaramente di una facilità da un punto di vista burocratico, da un punto di vista amministrativo, perché anche perché sono paesi che vogliono crescere, quindi qualche agevolazione, qualche problema in meno lo fanno, ma non parliamo di un'agevolazione dal punto di vista di trasparenza, cioè non è che si aprite il conto corrente in Georgia e nessuno lo viene a sapere. Anche questi paesi chiaramente gravitano nell'area OX e quindi devono sottostare a determinate regolamentazioni, però non sono intasati come può essere la Svizzera o come può essere la Germania oggi o la stessa Italia. Sì, le cose sono in evoluzione, quindi bisogna stare, diciamo il segreto è avere i rapporti, i rapporti con queste banche, devono conoscerti, questa alla fine è la chiave, quindi se anche in Georgia domani dovessero alzare le barricate, comunque noi abbiamo costruito una serie di rapporti con le banche georgiane solidi che ci permettono comunque di continuare per i conti correnti, qualsiasi cosa succeda, anche se l'OX scatena, scatena, sguinzaglia i propri ispettori anche in Georgia. Sì, è chiaro, ovviamente, se poi siete dei terroristi oppure volete riciclare i milioni che avete a LeBamas, allora lì non possiamo fare niente, neanche noi, però... No, lì dovete risolverlo a qualcun altro. Eh beh, noi lì non possiamo intervenire. Va bene, Valerio. Quanto siamo, visto che stai registrando tu? 33. Ok, possiamo chiudere a questo punto. Sì, dicagli sì. Va bene, allora io saluto tutti, ci vediamo al prossimo podcast. Ciao! A presto! A presto! A presto! A presto!